Io sono Maurizio De Matteis, sono direttore dell'Associazione Dislivelli di Torino, una realtà che si occupa di temi legati agli ambienti montani, quindi Alpi soprattutto e anche Appennini italiani. Noi una delle cose che abbiamo portato avanti, uno degli studi fin dall'inizio della nostra Costituzione nel 2009 è un'analisi demografica di quello che avviene nelle aree interne del paese e in specifico nei comuni di montagna. Abbiamo fatto degli studi per capire un po' quelli che sono i montanari per scelta, perché oggi vivere in montagna è una scelta, non è più una cosa subita come poteva essere negli anni 60 o 70 del secolo scorso, ma è proprio una scelta. Cioè ci sono delle persone che siano i restanti, cosiddetti restanti, cioè le persone che nascono in un luogo e decidono di restarci, magari facendo anche delle esperienze interessanti fuori dalla loro valle, all'estero o in città, ma poi tornando con un know-how nuovo che riescono in qualche modo a mettere in atto nelle loro valli. Che siano persone ritornanti, cioè persone che avevano magari la famiglia, che avevano i genitori che avevano abbandonato quel tal comune per andare a lavorare in fabbrica o comunque per andare in città e decidono di tornare nei luoghi della loro famiglia con degli occhi diversi, cioè vedendo le opportunità che questi luoghi offrono oggi a una persona che vuole investire un progetto di vita in queste valle. E poi ci sono i nuovi abitanti, quelli in qualche modo che si innamorano per vari motivi di un luogo e decidono di andarci a vivere e di portare anche loro avanti un progetto di vita in questi luoghi. Perché di nuovo sono persone molto spesso che hanno una formazione piuttosto alta e che vogliono provare in qualche modo a misurare questa loro formazione in un luogo diverso da quello che fino a una decina, una quindicina di anni fa si pensava dovesse essere il luogo per mettere in atto un disegno di vita di una persona che ha un'istruzione medio alta. Ecco, oggi quelle che possiamo definire le aree interne, e in Italia sappiamo che la maggior parte delle aree interne è costituito da aree montane, vivono un momento di attenzione particolare, sia mediatica che in qualche modo anche accademica, perché ci sono diversi studi anche su queste aree. Questo perché nel nostro paese siamo in un periodo in cui il modello predominante, quello che raccontava Nuto Revelli, che ha fatto sì che ci fosse una valanga umana che scendeva verso le valli, verso le città, la Pirelli, la Fiat, ecco questa spinta è venuta un po' meno, perché il modello urbano vive un momento di stanca in cui in qualche modo noi possiamo pensare a un'ipotetica persona che si volta, si gira indietro, vede questo arco alpino, io poi sono di Torino, quindi sono contornato da 400 chilometri di montagne, mi viene abbastanza semplice girarmi e riflettere su quello che è gran parte del territorio della mia regione. Ecco, vedono queste montagne e, come dire, essendo stati distratti per una cinquantina, sessantina d'anni, iniziano a pensare come queste aree possano in qualche modo dare un impulso a una ripartenza del nostro paese. Ci sono tanti progetti che insistono su diverse cose, sull'energia da fonti rinnovabili, su delle pratiche di turismo dolce, come si dice, cioè non più un turismo di massa e molto concentrato in alcune parti dell'anno, come era l'uscita e discesa, ma anche per dare impulso a un tipo di turismo che possa lasciare qualcosa su questo territorio e quindi mettere in rete tutta una serie di opportunità che i territori offrono. Non ultima, diciamo, quella delle aziende agricole. Anche qui ci sono alcune valli in cui c'è stato un incremento di piccole aziende agricole che sono nate e che si sono messe in rete con altri movimenti, come quello turistico, come quello, diciamo, anche della fornitura di prodotti di qualità a chilometro zero verso anche l'avan paese. Ecco, queste sono delle opportunità che, oltre, diciamo, a offrire delle opportunità alle persone, spesso giovani, per giovani intendiamo, diciamo, fino ai 30-35 anni ormai, però ecco, soprattutto per persone giovani offrono anche l'opportunità di avere una manutenzione costante di un territorio che altrimenti si è abbandonato, entra in crisi e poi in qualche modo deve essere tenuto con dei progetti, diciamo, emergenziali molto costosi e molte volte anche fine se stesse, perché l'abbiamo visto recentemente in Valtanaro dove a Limone c'è stata questa inondazione che è riuscita a spazzare via anche delle case che erano state costruite a ridosso dei gretti e dei torrenti. Ecco, oggi non si tratta solo più di ricostruire quello che c'era, ma anche di ripensare a una ricostruzione di un territorio che in qualche modo va ripensato.